Noi vogliamo, anzi siamo felicissimi che l'aeroporto ci abbia ospitato con questa mostra perché per noi è fondamentale farci conoscere, far conoscere a tutta la città ma non solo a Napoli e l'aeroporto è il luogo di partenza e passaggio internazionale, far conoscere l'archivio carbone, far conoscere questa realtà, questa enorme memoria di Napoli. L'archivio è composto da oltre mezzo milione di immagini e per la maggior parte ancora inesplorate, noi abbiamo lanciato questa campagna adotta un servizio fotografico proprio per scoprire cosa c'è in questo archivio.